Salve, buonasera a tutti, le bolse europee chiudono l'ultima seduta di febbraio in rialzo. Daxi chiude a più 0,25%, Ibex più 0,72%, il CAC di Parigi che chiude a più 0,29%, Fuzzi Londra meno 0,50% e Piazza Affari che chiude con la migliore performance di nuovo per la terza seduta di seguito a più 0,78% a quota 20.659,46 punti. Traenata sempre dal comparto bancario che la migliore in assoluto è stato BPR a più 2,71%, a seguire Banca Intesa a più 1,76%, UbiBank a più 2,06% e Unicredit a più 2,15%. Si segnala anche il titolo Saipem a più 4,77% che pubblica i conti del 2018 a cui ha fatto leggermente meglio di quello che è successo rispetto all'anno precedente. E soprattutto dopo i progressi registrati nel quarto trimestre che hanno portato all'acquisizione di nuovi ordini a quota 8,753 miliardi. Bene, questa è la situazione per quanto riguarda le borse europee, le chiusure. Adesso andiamo a vedere che come le news, ma che le economiche più importanti, sono state rilasciate nella sessione odierna. In Germania l'inflazione si è attestata a febbraio all'1,6% su base anno in aumento rispetto all'1,4% del mese precedente e oltre le attese degli analisti che avevano stimato un tasso all'1,5% su base mensile, l'indice di prezzo al consumo ha segnato un più 0,5% con il consensus più 0,4%. Mentre il PIL degli Stati Uniti ha segnato nel quarto trimestre 2018 una crescita annualizzata del 2,6% rispetto al trimestre precedente, rallentando rispetto al 3,4% del terzo trimestre ma facendo meglio delle attese degli analisti che avevano stimato un rialzo del 2,2%. Si tratta della prima stima sul PIL a selle strisce la cui pubblicazione è stata più volte rimandata appunto a causa dello showdown. Negli Stati Uniti le nuove richieste di sussidi di soccupazione invece della settimana al 23 febbraio si sono attestate a quota 225.000 unità in aumento rispetto alle 217.000 unità della passata lettura, dato rivisto dal precedente 216.000 unità. Gli analisti stimavano un dato pari a 220.000 unità. Bene, domani invece abbiamo una seduta ricca di calendario macroeconomico, venerdì 1 marzo alle 9.55 già si parte con due dati in arrivo dalla Germania con l'indice dei direttori di acquisto e settore manufatturiero della Germania di febbraio, la variazione della disoccupazione sempre della Germania, alle ore 10 invece dalla zona euro, l'indice PMI manufatturiero, alle 10.30 invece dalla Gran Bretagna, l'indice dei direttori degli acquisti e settore manufatturiero di febbraio, poi l'indice dei prezzi al consumo di febbraio, tasso di soccupazione alle ore 11 di gennaio, poi alle 14.30 al Canada il PIL dicembre annuale e quarto trimestre, quindi questo è un dato molto interessante al quale la lettura permette appunto di poter evidenziare cosa significa, cosa succederà nelle prossime, sia per quanto riguarda il Canada essendo una commodity currency, ma anche per quanto riguarda quindi essendo legata al US crude. Alle ore 16 poi dagli Stati Uniti abbiamo l'indice ISM dei direttori di acquisto e settore manufatturiero di febbraio e l'indice di fiducia dell'Università del Michigan relativo al mese di febbraio. Bene, adesso andiamo a vedere un po' quello che è successo per quanto riguarda le varie percentuali del best and worst, il pannello di controllo che noi utilizziamo, ed in questo momento vedete abbiamo una chiusura della giornata che vede di sotto addirittura un 3%, esattamente le due commodity currency, ovvero le due valute australiane, il dollaro della Nuova Zelanda e il dollaro australiano è precisamente a meno 3,26% e a meno 3,59%. Mentre invece per quanto riguarda la sterlina, la sterlina inizia a perdere ulteriormente dopo una seduta in forte spinta, a rialzo adesso bene, praticamente continua, si trova a meno 1,30%. Per quanto riguarda il Canada invece le notizie che sono state arrivate, che arrivate oggi, notizie macroeconomiche, da meno 1,28% spingono la chiusura della giornata, per quanto riguarda il dollaro canadese, a più 1,35%. Per quanto riguarda invece la situazione legata alle percentuali su un'ottica giornaliera, abbiamo al momento AUDUSD, la peggiore performance della giornata, a meno 0,65%, considerando le due commodity, oro e US crude, e anche i vari indici, mentre invece euro-dollaro australiano che risulta a più 0,71%. Bene, adesso andiamo a vedere, partiamo dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro sembra che al momento, vedete, è test 1,14, è toccata e fuga su 1,14 con la possibilità di rivedere nuovamente euro-dollaro, quindi qua sul giornaliero siamo sempre in zona 50, 61,8, che chiude al di sotto questa zona di questa micro resistenza, se mantiene domani potremmo avere qualche movimentazione ribassista. Mentre invece, per quanto riguarda il dollaro yen, da una situazione in cui si trovava in una, quindi praticamente stamattina partenza al ribasso, poi c'è stato un vero e proprio cambio di tendenza. A momento abbiamo un punto di swing, vedete, sul giornaliero, che si è spostato in ottica H4, qua sopra, più sopra, e ovviamente la situazione potrebbe essere molto interessante alla rottura di questa zona, di questo minimo. Alla rottura di questa zona, quindi, se il prezzo passa qua sotto, potremmo assistere ad altre movimentazioni al ribasso. Molto interessante invece guardare il cable, perché il motivo è molto semplice. Prima di tutto siamo in una zona di supply, vedete, zona in cui il prezzo ha reagito, punto di swing, siamo in ottica giornaliera, analisi multi-time frame, 1, 2, 3, quindi, praticamente c'è stato un forte, un deciso movimento, in questo momento, di recupero da parte dei venditori, che hanno ripreso tutta la candela blu della seduta di ieri. Questa situazione è molto interessante da seguire più tardi, perché se va a chiudere sotto il close, o sotto addirittura sotto il minimo della giornata scorsa, di ieri, di mercoledì, domani potremmo assistere ad ulteriori fasi ribassiste. Questa situazione è confermata, il movimento SEL, anche da una cluster zone rappresentata da due pattern armonici, nonché da una proiezione al 100% di A, B, C, D, quindi questa è una situazione molto interessante, che potrebbe, quindi, domani dare delle grosse indicazioni. Stessa sorte sta avendo anche STELINA YEN, ritorno un'altra volta al di sotto, 148,040, dopo questo movimento di ieri e anche di stamattina, poi c'è stata questa correzione, una sorta di doppio massimo, che spinge nuovamente la coppia verso il basso. Molto interessante, invece, è stato il target, oggi diversi target, soprattutto per quanto riguarda Euro New Zealand, 25 più 170 punti, quindi in totale 195 punti, poi il prezzo si è posizionato intorno a 1,67049, e il che al di sotto 1,67049 la view potrebbe cambiare, potremmo avere una correzione, dopo che, eccolo qua, questo è il pugno di swing, correzione, in ottica 50, 61,8. Per quanto riguarda, invece, l'oro, oro, diversi target presi oggi, adesso continuo questo movimento, altro target, alla rottura di questo microsupporto, ingresso di nuovo STEL, con diversi target, con il primo target di lungo periodo, a 1305,577, che piano piano si avvicina. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo domani mattina, con la prima diretta live del mese di marzo, alle ore 8.30. Buonasera da tutti.